Grazie Presidente. Volevo limitarmi a dare un'informazione, ma la correderò con alcuni dati sorprendenti che ho trovato in alcuni documenti di bilancio che riguardano la società che gestisce lo stadio Meazza. La comunicazione era che insieme ad altri colleghi abbiamo presentato, ed è adesso in dirittura d'arrivo insomma in consiglio, una proposta di delibera di iniziativa consigliare per dirimere la questione dello stadio Meazza che ricordo a tutti i colleghi, uno stadio di proprietà dell'amministrazione comunale, di procedere con un bando pubblico per determinare la ristrutturazione e la riqualificazione dello stadio di tutta l'area mantenendo in modo vincolato la proprietà sia dell'immobile che dell'area in capo all'amministrazione comunale. Perché dico questo? Perché questo lo dico ai colleghi che anche mi avevano chiesto di sottoscrivere una richiesta di indizione di un consiglio straordinario per avere il sindaco eccetera eccetera. Guardate, il sindaco può venirci a dire le cose che già peraltro abbiamo saputo dai giornali. Qui dobbiamo decidere se al di là dei taser, delle cose, vogliamo giocare un ruolo come maggioranza posizione che ridà ai cittadini, ai rappresentanti dei cittadini, eletti dai cittadini, un ruolo, una voce di indirizzo almeno da un profilo istituzionale su quanto sta succedendo sul Meazza. E cioè, se quanto sta succedendo, se il futuro del Meazza deve essere disegnato attraverso trattative privata e se ha senso, questa non è in subordine, sullo stesso piano, che l'amministrazione comunale possa ipotizzare di privarsi del Meazza. Lo dico perché credo che molti colleghi più ferrati di me in quelle che sono le dinamiche immobiliari del calcio sanno benissimo che molti stadi in Europa, ormai non dico che è lo stesso livello di incassi o superiore, ma si stanno ormai votando a dedicare e a finalizzare l'utilizzo dei propri stadi di proprietà, molto spesso, per attività extra calcio, con 20, 30 concerti e altro. Io ho scoperto che solo quest'anno lo stadio Meazza ha prodotto alla SRL di Milan e Inter, che gestiscono il Meazza, che pagano un affitto di circa 10 milioni di euro, versandone in effetti la metà perché il resto viene trattenuto per opere di manutenzione straordinarie di cui ho chiesto di avere copia e sto ancora aspettando, hanno incassato oltre 12 milioni di euro di incassi. Allora, pensare di vendere il Meazza a chiunque in questo momento mi sembra non solo un errore politico, mi sembra un errore, diciamo, erariale, per stare sul generico. Mi sembrerebbe una follia, mi sembra una follia perché noi siamo ancora in attesa di avere nero su bianco la richiesta di valutazione all'Agenzia dell'entrata del Meazza e la risposta dell'Agenzia dell'entrata del Meazza, ma con questi incassi che continuano ad aumentare, legati a eventi, solo il 40% degli incassi della società che gestisce Inter e Milan e SRL, il Meazza, derivano dallo stadio. Tutto il resto è un indotto extra delle attività commerciali, dei concerti, quindi delle attività concertistiche che procurano ricavi. Sto parlando dei ricavi legali, delle cose che se ne sono occupate altre inchieste sui parcheggi, quella è un'altra questione. Parlo di quello che è in atto di trasparenza da un punto di vista amministrativo. Allora io spero e credo che noi tutti dobbiamo cercare di approfondire il più possibile l'elemento di straordinaria convenienza che l'amministrazione comunale ha nel mantenere ben salda la proprietà e la gestione dello stadio Meazza e di tutta l'area attorno al Meazza, evitando regali, evitando concessioni ed evitando soprattutto di delegare un percorso di futuro, di un'area strategica a chi persegue legittimamente i propri interessi che non coincido con la città. Faccio un ultimo ricordo, Eventim, questa grande società multinazionale tedesca quotata alla Borsa di Monaco che fattura solo in Italia 502 milioni di euro all'anno, solo a Milano ne fattura 490. A Milano che cosa rimane? Io non lo so francamente. Milano è un grande business per chi organizza i concerti, per chi gestisce gli impianti in modo chiaro e trasparente. Quindi credo che sarà il caso di tenersi stretto il Meazza e di rivedere la convenzione e i termini di convenienza per l'amministrazione comunale di Milano. Grazie.